Una settimana per preparare e presentare la documentazione per la Lega Pro. L'unio di prossimo infatti scade il termine per le formazioni che hanno diritto di partecipare al terzo campionato nazionale. Il deposito della domanda di ammissione entro il termine ultimo è inderogabile e posto, appena di decadenza. Pertanto la sua inosservanza determina la mancata concessione della licenza nazionale per il campionato di Serie C. Vediamo quali sono gli step principali, specie dal punto di vista economico, che le 60 squadre dovranno fare da qui a lunedì prossimo. Innanzitutto avranno l'obbligo di depositare, appena di decadenza, presso la Lega Pro, anche mediante posta elettronica certificata la domanda di ammissione al campionato di Serie C contenente la richiesta di concessione della licenza nazionale. Ai fini dell'ottenimento di questa, le società devono provvedere al versamento della quota associativa alla Lega Pro e alle quote di partecipazione al campionato. Contestualmente, alla domanda di ammissione dovranno essere depositati i titoli di pagamento. L'importo dovuto ai fini dell'ammissione per la stagione sportiva 2021-2022 è costituito da una quota associativa di 5.000 euro e da una quota di partecipazione al campionato di Serie C di 55.000 euro. Totale 60.000 euro. Per le sole società sportive non associate alla Lega Pro nella stagione sportiva 2021 è previsto il versamento di un'ulteriore quota straordinaria di prima partecipazione. I 5.000 euro vanno versati contestualmente al deposito della domanda di ammissione al campionato entro e non oltre il 28 giugno, con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Pro oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Lega Pro in 10 ratei di 5.500 euro ciascuno, con scadenza il giorno 28 di ogni mese a partire dal luglio 2021 e con termine aprile 2022. Poi c'è il deposito dell'originale della garanzia a favore della Lega che va fornita esclusivamente attraverso fideiussione di un importo pari a 350.000 euro. Per quanto riguarda questa fideiussione non si potranno effettuare operazioni di compensazione con eventuali crediti esistenti presso la Lega, con l'utilizzo di saldi attivi della campagna a trasferimenti o con altri crediti. Infine va depositata presso la Lega Pro un'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti che attesta l'assolvimento del pagamento di tutti i debiti maturati nei confronti di società affiliate alla FIGC e di tutti i debiti derivanti da pronunce arbitrali. Una settimana di fuoco dunque per chi ha intenzione di disputare il campionato e anche per chi con la vittoria dei playoff di Serie D in tasca aspira ad essere una di quelle promosse in Lega Pro tramite ripescaggio. In quest'ultimo caso e di poche ore fa il tanto atteso documento che regolerà l'integrazione degli organici dei tre gironi vanno sottolineati a questo proposito tre aspetti. Il primo è l'ordine della chiamata in C che riguarderà una squadra B, quindi un club che ha preso parte alla Serie D e poi una squadra retrocessa dalla C. Altro aspetto da sottolineare è quello riguardante i costi pari a 300.000 euro da versare come contributo straordinario alla FIGC quindi la domanda da presentare. Poi si passa ai criteri. Il primo punto è quello riguardante la classifica finale che incide per un 50%. Ogni squadra retrocessa ha totalizzato i rispettivi punti nei vari gironi. Nel caso dei gruppi A e B a 20 squadre i punti vanno moltiplicati per un coefficiente visto che nel gruppo C l'esclusione del Trapani ha prodotto un minor numero di partite. Poi entra in gioco la tradizione sportiva con coefficienti e punteggi assegnati in base alla partecipazione ai campionati professionistici. Altra storia per chi ha disputato l'ultima Serie D. Ai fini dell'integrazione dell'organico del campionato di Serie C sarà utilizzato il seguente regolamento. Le nove squadre vincenti la finale dei playoff di ciascun girone saranno inserite in una graduatoria finale sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori. Medi appunti in classifica di ciascuna squadra che avrà vinto la finale di playoff del girone al termine della regular season. Alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso giovani di valore che avrà vinto la finale dei playoff verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10. Alle squadre classificatasi al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso giovani di valore che avranno vinto la finale di playoff di girone verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,05. In caso di parità di punteggio fra le società prevarrà la società con la migliore posizione in classifica in ciascun girone al termine della regular season. Ci vorrà con ogni probabilità dunque anche buona parte del mese di luglio per capire chi ci sarà e chi invece dovrà salutare il professionismo.